Una giornata dedicata ai temi del bullismo, della violenza di genere e allo sport. Questo, il senso dell'evento Polvere di Stelle, presentato questa mattina nel Palazzetto dello Sport di Ponte Cagnano-Faiano. Un progetto organizzato dall'amministrazione e sostenuto dalla Federazione Pugilistica Italiana, dal CONI Comitato Regionale Campania, dal Comune di Torre Annunziata e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Center. A chiudere il cerchio l'incontro internazionale di Pugilato Italia-Irlanda che si terrà alle ore 18, il cui match di ritorno si terrà domenica 19 maggio nella città di Torre Annunziata. I bambini sono al centro della nostra azione di governo, questa città deve guardare con gli occhi dei bambini di Ponte Cagnano-Faiano. Da loro dobbiamo innanzitutto ascoltare, raccogliere delle proposte e insieme ripartire per ridare dignità a un territorio e anche per mettere al primo posto dei valori così importanti come questi di cui parleremo questa mattina. Noi siamo ovviamente sensibili a questo argomento. Io con tutta l'amministrazione e gli assessori, in particolar modo con l'assessore alle politiche sociali Paola Manzo, stiamo mettendo in campo una serie di iniziative rivolte proprio verso questo argomento. Ovviamente noi oggi siamo presenti qui perché è inutile a dirlo che dove c'è aggregazione, lì possiamo combattere questo fenomeno che è comunque sinonimo di grande malessere nella nostra società attuale.